Bravissimo, naturalmente si è assicurato sulla vita. Con il Lloyd Adriatico Assicurazioni, è una compagnia forte, seria, sicura. Lei ha sottoscritto una polizia malattia? Certo, così il Lloyd Adriatico mi rimborsa tutte le spese della clinica e mi assegna anche una diaria per tutti i giorni di lavoro che perdo. Una bella assicurazione, eh? Fa impressione di vedere un malato così allegro? Per forza, c'è un amico che pensa al mio infortunio. Il Lloyd Adriatico? Certo, anche se la gamba mi fa un po' male, mi sono messo a sicuro dei rischi presenti e futuri relativi all'infortunio con una spesa veramente modesta. Tre casi, tre polizze, una sola grande compagnia. Lloyd Adriatico assicura di pensare a voi.